Giacomo Sciani, con il numero 12 Fabrizio Cassinari, con il numero 9 Ernesto Landalo, con il numero 3 Giuseppe Alfiume, con il numero 17 Carlo Colini, con il numero 7 Alex Lacosta, con il numero 30 Lorenzo Martelli, con il numero 92 Amin Kika Moved, con il numero 8 Dario Pierini, con il numero 14 Tommaso Filipponi, con il numero 24 Amir Boncris, con il numero 15 Alessandro Dottanu, all'editore Domenico Cassinari, girano l'incontro ai signori, l'incuente di La Roda e il Panetta di Genova, a tutti un nuovo divertimento. Giacomo Sciani, con il numero 10, Grazie. 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 Composizione. Fulti. Alecino. Alecino. Goli. E' un brazo. E' un brazo. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.